Salvo imprevisti, i disagi per gli alunni dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII dovrebbero finire alla fine di gennaio, al più tardi agli inizi di febbraio. Il Comune di Sernia ha infatti dato il via libera definitivo al progetto che prevede la messa a norma dell'ex centroanziani di via Umbria, destinato ad accogliere le sette classi che attualmente stanno facendo lezione a San Lazzaro, divisi tra i locali messi a disposizione dalla parrocchia di San Giuseppe Lavoratore e le tre aule rimediate nell'edificio azzurro. È stato proprio il sindaco Giacomo D'Apollonio a rassicurare i genitori in costante contatto con i vertici e la struttura tecnica di Palazzo San Francesco. Nel clima collaborativo che abbiamo stabilito con l'amministrazione comunale di Sernia, con la scuola, il Comune di Sernia ha approvato una delibera con la quale si stanziano 150 mila euro per la riattazione dell'ex centroanziani e ha stabilito con il progetto dell'ufficio tecnico 60 giorni lavorativi per espletare tutte le lavorazioni previste e quindi ci rimettiamo alla clemenza dell'amministrazione per indire nei tempi più brevi possibili la gara d'appalto e poi di conseguenza la diciamo l'esecuzione dei lavori gli stessi. Il sindaco in questa fase si è sbilanciato dicendo che probabilmente tra la fine di gennaio ma anche l'inizio di febbraio dovremmo tornare nella sede della nella sede naturale della nostra della nostra scuola. Cominciare a fare lezioni al più presto all'ex centroanziani per i genitori degli alunni dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII è la priorità ma al Comune chiedono un altro piccolo sforzo per garantire maggiore sicurezza ai loro figli durante gli spostamenti dal centro al quartiere San Lazzaro. Dotare la navetta che attualmente ha messo a disposizione per portare i ragazzi dalla zona San Leucio al quartiere San Lazzaro di dotare la navetta che è di 50 posti e trasporta bambini che vanno dagli 8 ai 10 anni di dotarla di un accompagnatore che possa fare sorveglianza durante tutto il tragitto e soprattutto al momento dell'arrivo a San Lazzaro per far scendere ragazzi che purtroppo sono gravati anche del peso dei loro zaini e ripeto parliamo di bambini tra gli 8 e i 10 anni.